E' un convegno che riguarda le problematiche giovanili, lo sport, il rispetto, la legalità diciamo, ed è un convegno che riscuote grande successo fra i ragazzi ed è stato organizzato in sinergia con la dirigenza dell'Istituto Tecnico Industriale di Sarno, è stato, dicevo, è stato in sinergia e il dirigente scolastico ha accettato di buon grado questo convegno perché ha capito che lo spirito dei ragazzi dell'Associazione Sarnica Universitas era uno spirito costruttivo e certamente non quello di apparire solamente. Solo lo sport fa nascere dentro le persone il rispetto per il prossimo e far sì che si crea prima il cittadino e poi membro attivo del sociale. Questo è un luogo deputato alla formazione, all'istruzione e soprattutto alla cultura e questo è un momento culturale quindi veramente sono contento di vedere che anche l'associazionismo individui dei posti istituzionali, la scuola. Il tema dello sport sarà ovviamente vagliato e analizzato a Tukur a 360 gradi quindi sia nella sua dimensione giuridica, sociale e ovviamente rivolgersi ai ragazzi per far sì che lo stile di vita degli stessi sia uno stile di vita sano e per far sì appunto che le nuove generazioni vengano educate allo sport e al rispetto dell'altro ovviamente. Un già candidato premio Nobel nell'anno 2000, anche dottore in scienze sociali dal 2010 diciamo che per noi è un grande onore averlo qui, il nostro apporto di amicizia che ci lega da anni ormai ci permette questo vantaggio di averlo fra noi. Che è un onore oggi ricevere qui personalità mondiali nel mondo della ricerca scientifica come il professor di età e il professor di imperatore ci hanno dato la gioia di essere presenti e per me uomo di scuola oggi evidentemente rappresenterà proprio il chiaro segnale che quello che facciamo sulla divulgazione, sull'informazione per i nostri figli, per i nostri e per le famiglie può lasciare una traccia veramente concreta. Io trovo sempre che la comunicazione di sport e gioventù è una cosa molto importante la cosa che mi accomuna è che io penso veramente a uno dei pochi che si occupa di devianza minorile e di disagio, per cui dirò tutto e non dirò niente perché noi siamo i colpevoli di una società che non sa rispettare il patrimonio dell'infanzia. Col doping che è una grossa, per così dire, piaga legata presumibilmente anche al giorno d'oggi all'esasperazione delle attività sportive, si moltiplicano le attività perché c'è la commercializzazione c'è la retribuzione rispetto a quello che uno fa, si ridurono i tempi di recupero e purtroppo si riduce anche la longevità sportiva. Grazie